oggi vi faccio vedere come non mangiare una mela scusate come non mangiare una mela dovete sapere che hanno approfitto per salutare simona psiche questo video dedicato lei dovete sapere che nella buccia delle mela che comprate al supermercato sopra la buccia sono stati fatti dai 30 ai 50 trattamenti io sono diplomato agrotecnico quindi le soste cose dai 30 ai 50 trattamenti pesticidi anche ormoni per poi finire nella fase finale anche antimicotici per i funghi per la fase finale per metterli nella paraffina vengono messi nella paraffina che una sorta di cera fatta col petrolio appunto la cosa da non fare con la frutta con la frutta scusate con le mele a mangiare con la buccia che possono causare dei problemi di salute buona 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 buona